Il mercoledì e il giovedì su Radio Free Music Web si aprono le porte di Café de Ricos Con Federico, Maurita, Marta e Marco alias Dottor Nove News, curiosità, musica e tanto divertimento Non perdere l'appuntamento con le più divertenti notizie del web in giro per il mondo Con le rubriche e i personaggi più strampalati Il mercoledì e il giovedì alle 12 c'è Café de Ricos Il bar virtuale di Radio Free Music Web e il caffè ve lo offriamo noi No, aspetta, virtuale, cioè bar virtuale, caffè virtuale